Nella vita serve il ritmo ed il venerdì dà ritmo Nella vita serve il ritmo ed il venerdì dà ritmo Ti 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 ri ti 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 e tu mi tendi tutto il dì Ti 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 ri ti 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 e questo è il video del venerdì Ah? Cioè voglio dire, cioè voglio dire ragazzi questo era molto, non lo so, molto fusion, molto particolare questo giro di, di, questo giro di, non so che tonalità ho preso in considerazione Cioè mi è piaciuto moltissimo questa sigla, almeno a me, mi auto esalto da solo, di questa nuova sigla del venerdì, di questo nuovo video del venerdì in cui parleremo di ritmo di studio E non è un caso, insomma, che ho cantato Nella vita serve il ritmo ed il venerdì ci dà ritmo, no? Il venerdì dà ritmo Ti 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 ti, questo è il video del venerdì Allora, mi ricordo, prima di partire votate questa sigla se vi è piaciuta, se vi è fatto squifo I voti consentiti sono 1, 3, 5, 7, 9, 10, 10 e l'ode, 10 e l'ode menzione speciale, 10 e l'ode menzione speciale, bacio accademico Se volete usare questa sigla non potete, perché? La musica è mia, i diritti sono miei, scherzo, lo sapete bene che è scherzo Benvenuti sul canale di fisica, sul canale di youtube è la fisica che ci piace, dove imparare fisica e matematica è un gioco da ragazzi Questo ovviamente non è un video di fisica, ma tutti i lovini che mi amano e mi seguono sanno molto bene Che io il venerdì non parlo di fisica, ma parlo di altro, parlo di vita, di metodo di studio, appunto, di felicità, di libri, di inglese Ma che te pare? Parliamo di altro E oggi appunto ci concentriamo sui ritmi di studio, sul ritmo giusto per studiare correttamente, bene E magari, insomma, per asciugare anche un po' i tempi Prima di partire però, e prima di raccontarvi la mia esperienza da studente Quindi quello che io ho fatto, anche il successo che ho avuto da studente Perché alla fine è stata una bella storia, lieto fine, sia al liceo che all'università Prima di dirvi questo, vi vorrei ricordare che io ho già parlato di metodo di studio Cioè non è la prima volta che parlo di questo argomento Ed il metodo di studio condiviso una chiacchierata un po' di tempo fa Se te la sei persa, guardatela qua Ding! Non solo O anche poco tempo fa Un mesetto fa, forse un mese e mezzo, non lo so, due mesi fa Condiviso un nuovo metodo di studio Completamente innovativo Che avevo scoperto al tempo da pochissimo Che trovo molto molto corretto Si chiama richiamo attivo o active recall Se lo vuoi rivedere, se vuoi vedere il video in cui applico questo metodo E ti spiego come applicarlo Guardatelo qua Ding! Ancora, io ho dedicato un intero video allo studio per la matematica Quindi a come migliorare matematica So bene che molti di voi sono disperati per la matematica Ma come bisogna studiarla, che tipo di tecnica applicare, come usare il quaderno Bla 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 Ne ho parlato in quel video Quindi se volete rivedere il video sullo studio Come migliorare lo studio in matematica Guardatevelo qua Sbadabing! E poi, ultima cosa che vi linko È una playlist intera Completamente dedicata allo studio di fisica Quindi come affrontare l'interrogazione di fisica Come affrontare un compito in classe di fisica Come si risolve un problema di fisica Come si scrive una relazione di laboratorio di fisica Ma volendo può essere anche di chimica Questa playlist migliora in fisica Te la linko qui Facciamolo tutti insieme Basta! Adesso parliamo dell'argomento di oggi Il metodo, il ritmo di studio Perché parliamo di ritmo Ed è una cosa molto importante Che ritmo di studio dobbiamo avere? Quante ore al giorno dobbiamo studiare? Dobbiamo studiare anche nel weekend? Dobbiamo studiare di più un giorno e di meno un altro? Dobbiamo studiare quando abbiamo molti più compiti il giorno dopo? E a scuola possiamo fare qualcosa per migliorare il nostro studio? E quando abbiamo del tempo libero Possiamo migliorare il nostro studio spezzettando? Insomma, il ritmo di studio Come va organizzato? Allora, io ho preparato due lavagnate Che vi faccio vedere molto velocemente Su una ho rappresentato un grafico Del numero di ore in funzione dei giorni Cioè dell'andamento dello studio settimana Lo vedremo fra un attimo E lo leggeremo fra un attimo E sull'altra lavagnata Ho scritto i cinque punti Per migliorare il metodo di studio Uffa questo metodo Migliorare il ritmo di studio Dico sempre il metodo Migliorare il ritmo Lo vedremo Lo vediamo fra un attimo E li commenteremo Però prima di vedere le due lavagnate Vi parlo di me Di Vincenzo Quando studiava al liceo E al conservatorio Perché molti di voi lo sanno Tanti altri no Lo dico velocemente ora Io quando ho fatto le superiori Non facevo solo liceo Ho fatto lo scientifico Liceo scientifico Io ho frequentato anche il conservatorio State un attimo Voglio vedere se sta registrando Sì sì Chiaramente sta registrando Perché stavo parlando Ho fatto liceo e conservatorio Quindi era una situazione di quelle Al limite della possibilità Per la mole di lavoro che avevo da fare Perché avevo da studiare Per la scuola E avevo da studiare per il conservatorio E vi posso assicurare Io ero violinista Studiavo violino Che studiare uno strumento musicale Comporta tante ore di studio Tante Quindi il ritmo di studio Se vuoi Aumenta per una persona Che fa due scuole contemporaneamente Poi mi sono ritrovato Per un po' di tempo A fare contemporaneamente Università e conservatorio E non te ne parlo Fra le altre cose Il sottoscritto Giusto perché non era contento Faceva un'altra Tremila cose Durante la giornata Perché io ad esempio Avevo E ho tuttora L'ho detto tante volte Un gruppo musicale Col quale facevamo concerti Ora continuiamo a fare concerti Ma prima ne facevamo Molti di più E paradossalmente Io avevo Meno tempo Allora la domanda è Come organizzavo Il mio ritmo di studio Allora I miei segreti Erano questi Io ve lo dico Cosa facevo In maniera Diciamo Come si può dire Pratica Pragmatica Non studiavo Mai la notte Cioè le ore tarde Tipo Le dodici Mezzanotte Luna Mai E non ho mai studiato La mattina presto Cioè tipo gente Che si sveglia la mattina Alle quattro Per iniziare a studiare Mai Mai Io vi sto parlando di me Attenzione Poi passeremo a quello Che dobbiamo fare Ancora Altra cosa che applicavo Io ero Attentissimo Ripeto Attentissimo Alle lezioni in classe Perché Una volta che Io seguivo Le lezioni in classe Prendevo appunti Io stavo già studiando Io stavo già studiando Ero già nella fase di studio Se il professore assegnava E c'era un'ora di supplenza Io mi mettevo a fare i compiti Lo so Ho capito E triste E non lo so Di quello che vuoi Ma io approfittavo Quindi approfittavo dei buchi Durante la giornata Se c'erano dei buchi Io mi facevo i compiti Io viaggiavo con il pullman Faccio avanti e dietro Con il pullman C'erano Belle mezz'orette Orette Che noi stavamo Col sedere Sulle chianche Sui muretti a secco In Puglia Ad aspettare il pullman Io prendevo il libro E studiavo Facevo i compiti Molti mi dicono Ma tu stai sempre a studiare E io dicevo No Non sto sempre a studiare Non è vero Io non sto sempre a studiare Semplicemente Io mi rompo le scatole Che devo andare a casa E poi mi devo fare Le ore di studio Fino alle due di notte Cioè Io non lo volevo fare Proprio non lo volevo fare Ti ho detto Non studiavo Nella notte E né tantomeno Mi svegliavo la mattina Presto per studiare Madonna Non esiste proprio Assolutamente Altra cosa importante Oltre che Sfruttare i buchi Cioè I momenti liberi In cui potevo studiare Ero in conservatorio Dovevo iniziare la lezione Avevo finito di pranzare Mi ero portato un pranzo a sacco Mi mettevo a studiare Mentre aspettavo di entrare Per fare la lezione di violino Cioè Ragazzi Sfruttavo i buchi E tu fai un po' un lampo E tu ciò ma spezzettavi Oh lo so Io mi trovavo bene Altra cosa importante Ultima cosa che applicavo E che mi sono scritto Andavo volontario Fidatevi Questa è una chiave Di lettura Importantissima Io andavo volontario Perché non c'è niente da fare Quando tu c'hai E voi lo sapete Al liceo Alla scuola superiore Quante materie ci sono Da fare Tantissime Se tu non vai volontario Cioè Se io non fossi andato volontario Io mi sarei dovuto portare avanti Tutte queste ore di studio Di tante materie Ogni giorno Invece andavo volontario Mi toglievo davanti la materia Mi facevo l'interrogazione E vai Mi dedicavo ad altro Chiaro Poi c'erano i compiti In classe Da preparare Per carità Però vi posso assicurare Che questo andare volontario Era una bella Ormai l'avevo preso Come abitudine Chi viene volontario Ero io E altri due o tre Che andavamo sempre volontari Avevamo la stessa tecnica Chissà perché Chissà perché Quei due o tre Che eravamo Volontari Poi alla fine Abbiamo preso il massimo L'esame di naturalità Chissà perché All'università Sono cambiate tante cose Perché ovviamente Il ritmo di studio È diventato più serrato Molto molto più alto E quindi chiaramente Il studiare nei buchi Eccetera L'andare volontario Non c'era C'erano gli esoneri All'università Quindi poter dare una materia Per esempio parzialmente Dare degli esami parziali Li facevo tutti Tutti Perché non volevo fare L'esame totale Certo Sono cambiate un po' di cose All'università Però io ti sto parlando Soprattutto del Vincenzo Al liceo Cioè di quello che io facevo Al liceo Ora Detto questo Io ti ho dipinto Un po' la mia situazione Che cosa mi comportava Questa cosa qua Di avere Un ritmo di studio Che si Assestava Sulle Due ore e mezza Tre ore Al giorno Un ritmo di studio Che si assestava Sulle due ore e mezza Tre ore al giorno Te prego Non è tanto Dimmelo E scrivimelo nei commenti Non è tanto Perché Perché è dimostrato È dimostrato Che per avere Un livello efficace Il ritmo di studio Deve comportare Un andamento Di ore Che in media Si assesta Sulle cinque Quella in rosso È la media Di questo numero di ore E questo in verde Solo io Questo sono io Quelli rossi Sono tutti Lovini E quello verde Sono io Allora Come potete notare Si vede in maniera Chiara 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 Come il sole Che intanto Il numero di ore Crolla Nella giornata di sabato Perché il sabato Non studia nessuno Perché crolla Questo è chiaramente Il numero di ore Medio Dello studente medio Poi c'è quello Che sta qui sotto E quello che sta Molto più sopra In media La domenica Come potete vedere Si è arrivata Una punta di ore Scusate Il numero di domenica È una tragedia Perché la domenica Studia tantissimo Non mi viene da ridere Perché anche io Mi ricordo Le vie domeniche Buttato sui libri La domenica È una tragedia Brutta giornata Poi durante la settimana Insomma c'è una specie Di curva Che più o meno Si mantiene costante Scende un po' Verso il venerdì Scende così Scusate Viene da ridere Perché Perché mi viene l'angoscia A ripensare a me Che studiavo Ok Mediamente Ci sono queste Cinque ore Appunto In cui si studia Durante la settimana Ogni giorno Come Numero di ore Complessivo Io Mi sono assestato Sulle tre ore Ok Attenzione Buono Allora la domanda Che ci dobbiamo fare Ora è Come Migliorare Il ritmo Di studio Cioè Ragazzi Com'è possibile Prendere quelle Cinque ore In media Al giorno E farle Scendere Come numero Quindi giocare Intorno ad una Media Che è più bassa Come Migliorare Perché il ritmo È questo Alla fine Scusatemi Il ritmo Di studio A che cosa Si riduce Ad un numero Di ore Che si distribuiscono Durante la settimana C'è il giorno In cui ne fai Di più Il giorno In cui ne fai Di meno Bla 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 Alla fine Hai il tuo Battito cardiaco Il tuo Ritmo Di studio Allora è possibile Migliorare il ritmo Di studio E quindi Conseguenza Far scendere Il numero Di ore In media Di studio Al giorno Quindi fare Uno studio Più efficace E più Come dice L'amica mia Alla sostanza Attraverso queste Cinque regole Lo studio Deve essere Costante Il ritmo di studio Deve essere Costante E organizzato Il ritmo di studio Deve essere Supportato Dall'attenzione In classe Il ritmo di studio Non deve essere Accompagnato Dal cellulare Assolutamente No way Whatsoever Non c'è possibilità Di utilizzare Il cellulare Perché se no È la fine Il ritmo di studio Deve essere Mattutino Nel weekend Sabato E domenica Io non so Se tu vai a scuola Di sabato E domenica Però deve essere Mattutino Nel weekend E il ritmo di studio Deve essere Autopremiante Ora vediamo Questi punti Uno alla volta Partiamo dal ritmo di studio Costante e organizzato Che vuol dire Allora Vuol dire questo Costante E sbagliato dire Ok Domani Ho poche materie Quindi oggi Studio poco Dopodomani Ho un sacco di materie Quindi domani pomeriggio Studierò un sacco Ragazzi Sbagliato Fatevelo dire Da chiunque Sbagliato Distribuitelo Piuttosto lo studio Se avete poco Per il martedì E moltissimo Per il mercoledì Distribuitelo Cioè Sparpagliatelo Anticipate delle cose Qualcuno di voi Starà dicendo Ma io lo faccio Bravo Bravissimo Perfetto Io sto parlando in generale Organizzato Che vuol dire Che qui dico Costante Quindi distribuisce Il ritmo di studio Non studiare Due ore Che ti devo dire Lunedì E dieci ore Il martedì E sbaglia Ti sfianca Ti stanca Ti deprime Organizzato Vuol dire Schedulato Te le devi scrivere Le cose da fare Cioè Se tu vuoi essere Costante Nello studio Lo studio Lo devi organizzare Se il ritmo Deve essere Distribuito Durante le giornate Te lo devi scrivere Ti devi proprio fare Una schedule O come dicono in UK Schedule You have to prepare A schedule Una schedule Di lavoro E quindi devi scrivere Cosa devi studiare Quando lo devi studiare A che ora Lo devi studiare Organizzatela Questa cosa Fate l'agenda digitale Sul foglio di carta Come te pare Ma organizzalo In modo che Non hai da studiare Tutto quello Che devi fare Il giorno dopo Così non funziona Che cosa c'ho domani Studio le cose per domani No Studi le cose per domani Perché non le hai fatte Nei giorni precedenti Ecco perché Ti ritrovi quel giorno A studiare le cose per domani E ti metti qualcosa Per dopo domani O magari per venerdì In cui avrai Un casino di roba da fare Allora ti anticipi qualcosa Allora noterai Che mano a mano Che organizzi Scheduli lo studio Si distribuiranno Le cose da fare E tutto diventerà più leggero Perché ti renderai conto Ad un certo punto Che va bene Va meglio Va molto meglio Secondo punto L'attenzione in classe Lo studio Il ritmo di studio Viene influenzato Tanto più sei attento in classe Tanto meno Tante meno ore farai di studio a casa Please Believe me È la verità Io ti dico Alza la mano Se una cosa non la capisci Te prego Chiedila Chiarisci le tue idee In quel momento Perché sennò Perdi tempo a casa Perdi tempo a casa Allora L'attenzione in classe È fatta da tanti Come si può dire Piccoli dettagli Il chiedere Quando una cosa Non ti è chiara Non accontenta Prendere bene appunti Io ho fatto un video Sugli appunti Cercalo su YouTube Prendere appunti La fisica che ci piace Ho fatto un video meraviglioso Non te lo dico Guardatelo Cioè Prendi appunti bene Sottolinea Già in classe Sii molto attivo Sii molto attiva Nello scrivere le cose Perché la mente Sta già lavorando La mente è un muscolo Comincia a Spingere il muscolo Già in classe Comincia a lavorare Già in classe E metà del lavoro Sarà fatto Lo noterai Non avrai giovamenti A questa Grande attenzione in classe Dopo due giorni Dopo tre giorni Ma ti renderai conto Che piano piano La mente La memoria Comincerà a riorganizzarsi Perché non hai preso E Che me frega Che quella sta a parlare Ma che me frega Ma studi oggi pomeriggio No No Non esiste Cioè Ti perdi Fidati Terzo punto Ma no Ma no Il cellulare Che tragedia Allora Attenzione Tu dici Tu non hai parlato Dell'esperienza Del cellulare Come facevo Scusa Io quando sono andato a scuola Io ho fatto il liceo Dal 1991 1991 Al 1996 Beh Fatti un conto Scusa Cioè 91 96 Cellulare Non c'era Non esiste C'erano i primi cellulari Ma non c'erano App Cose Internet Non c'era niente Non c'era niente Cioè il cellulare Potevi chiamare E non mi ricordo Io credo di aver avuto Il mio primo cellulare Forse Quinto anno Primo anno di università Non mi ricordo Ma non si faceva niente Gli Ericsson Chiedete ai vostri genitori Gli Ericsson I primi Nokia Chiedete un po' Allora Il cellulare Te prego Non ci deve essere Durante lo studio E te lo dice uno Senti a me Te lo dice uno Che si fa distrarre Dal cellulare Io adesso Ad esempio Quando devo preparare Un Allora Per esempio Mi sono preparato Gli appunti Non so Per questo video Ecco Te li faccio vedere Gli appunti Rigorosamente su carta Me li sono presi Li ho messi su carta Mi sono fatti I miei appunti Devo preparare gli appunti Guardo del materiale Per preparare un nuovo video Per la fisica di sera Per quello che Non lo so Per preparare una nuova live E C'è E preciso Se io ho il cellulare Accanto a me Io sto continuamente A switchare fra E YouTube E TikTok E Instagram E Facebook Per fare cosa? Niente 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 Per vedere le notifiche Ormai è diventato Un problema Sta cosa Noi siamo Schiavi Del Z Z Dello scrolling Scrolling Fine Al Nulla più assoluto Cioè mi fermo Mi fermo perché voglio fartela capire Sta cosa No cellulare Devi studiare Mettilo da parte Pensa più al quinto punto Adesso ci arriviamo Ma mettilo da parte Ti prego Quarto punto Questo è particolare Questo è particolare Le ore Allora in generale Dice il proverbio Il mattino All'oro in bocca Dice il proverbio Io Io Non ci ho mai creduto moltissimo Però ho notato Che in realtà Le ore mattutine Sono quelle Migliori Per poter studiare Allora se ti posso dare un consiglio Te lo do io Io questo non lo applica Quando io ti ho parlato di me Vincenzo Studente Eccetera eccetera Questo non è un consiglio Che Che io ho applicato Però è ottimo Specie per il weekend Allora perché il weekend Studiare la mattina Nel weekend Perché il weekend È un momento In cui Non si va a scuola Quindi comunque Tu dici Ma io mi voglio svegliare più tardi Attenzione Io non sto dicendo Che questa roba qua Queste regole Le dovete applicare Tutte cinque Sempre continuamente Sono cinque regole Più ne applichi Meglio è Più il tuo ritmo di studio Migliorerà E il numero di ore Di studie Medie Scenderà Quindi quello dipende da te Ma studiare la mattina È meglio Molto meglio Che studiare il pomeriggio Per esempio dopo pranzo Con la mappazza Sullo stomaco O la sera Nel weekend Ma come se fa Io lo so Che il momento In cui studiate di più Scrivetemelo nei commenti Sono convinto È proprio la domenica sera Ma si vede proprio Dalle statistiche Io lo vedo anche Dalle statistiche Per esempio Di visualizzazione Dei video miei Che alla fine Sono video di Fisica e matematica Cioè quindi gente che studia Non sono video di Non so Di come si fa la torta Cioè voglio dire Quindi alla fine È chiaro che io lo vedo Che lì c'è un picco La domenica sera Allora se ti è possibile Studiare un po' la mattina Durante il weekend È meglio Intanto perché Sfrutti quella giornata Io lo so che il sabato Non è fatto per lo studio Però so che anche Molti di voi dicono Eh dovrei studiare Dovrei studiare anche il sabato Dovrei farlo anche il sabato Allora sfrutta la mattina Non ti svegliare il sabato Alle Ripeto Non so Se non andate a scuola Sto dicendo Se non andate a scuola Non ti svegliare il sabato Alle nove e mezza Alle dieci Non lo so Non ti svegliare a quell'ora Svegliati in un orario Fai la tua colazione E mettiti a studiare Il non plus ultra Sarebbe proprio Presto 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 Ma come vi ho detto Io non ce l'ho mai fatta Mai E quindi probabilmente Questa è la regola più debole Di tutte La domenica lo stesso Vai a ballare Fai quello che te pare Non è periodo di andare a ballare Ma ritorneremo a ballare Immagino Mi auguro Lo so Poi la domenica Si distrutto Ti svegli tardi No 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 Cerca di trovare un compromesso Non è che devi dire agli amici Devo tornare prima Perché devo studiare Ci fa anche divertiti Fai quello che te pare Però la domenica Svegliati Svegliati ad un certo punto Non te la farà a letto la mattina Cioè a me per esempio È capitato Non lo so Nei weekend Di distribuire lo studio Fra il sabato mattina E il sabato pomeriggio Quando potevo studiare di sabato Perché io andavo a scuola il sabato Quindi magari come molti di voi Andavo a scuola E quindi ho notato Che la mattina è Ultimo punto Autopremiati Cioè lo studio deve essere autopremiante Che vuol dire questa cosa qua Significa Che lo studio Deve essere qualcosa Che ti deve dare qualcosa Se tu stabilisci degli obiettivi Quanto devi studiare Un giorno Quante ore devi studiare Che cosa devi fare Ti ricordi il punto numero uno La costanza e l'organizzazione Cioè se tu riesci ad essere bravo Riesci ad essere virtuoso Da questo punto di vista Autopremiati Una serata Una pizza con gli amici Un sushi con gli amici Andiamo a ballare là Piuttosto che là Fatti un regalo Fatti un premio Cioè è importante Che ci sia Il fare una cosa Perché la devi fare Eccetera eccetera E il fare un'altra Perché hai voglia di farla Perché ti piace farla Cioè questo punto qua Secondo me è fondamentale Il tempo libero Come premio Mi vado a fare una bella passeggiata Io lo so che sto parlando In un periodo in cui purtroppo Non lo so Non è possibile uscire Eccetera eccetera Magari stai a guardare Sto video Non lo so Nel 2027 E quindi sicuramente Potrai andarti a fare La benedetta passeggiata Allora Visti i cinque punti La domanda adesso va a voi Che cosa pensate A proposito di Metodo di studio Uffa no Di metodo di studio Adesso la palla passa a voi Voglio sapere nei commenti Che cosa pensate Questi cinque punti Sono efficaci Secondo voi Per migliorare Il ritmo di studio E quindi automaticamente Abbassare Il numero di ore Che devi fare giornalmente Quale secondo voi Di questi punti È il migliore Scrivetelo nei commenti Quale secondo voi È inutile applicarlo Perché tanto Bla 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 Pensate che il cellulare Faccia bene Comunque in ogni momento Voi non vi distraete Col cellulare Vedete che riuscite A studiare bene Scrivetelo Perché ragazzi Siamo diversi Siamo completamente diversi Magari voi Vi trovate bene A studiare col cellulare Io ripeto Ora Nel mio lavoro Nell'organizzare le mie cose Vedo che il cellulare È una cosa negativa Scrivetelo nei commenti Aggiungereste un sesto punto A questi cinque Come organizzate Il vostro ritmo Di studio personale Scrivetelo nei commenti Fare sport Per esempio Vedete che fa bene E vi fa studiare meglio E migliora il ritmo Quello poteva essere Un altro punto Da mettere in mezzo Lo sport E l'attività fisica A me ha migliorato molto Ha fatto migliorare molto Il mio ritmo di studio Mi faceva apprendere più Non lo so perché Però il fare sport E l'attività fisica Faceva bene alla mente Ne ho anche parlato In un altro video Scrivetelo nei commenti Insomma A voi la parola Mielovini Quindi ci vediamo La prossima volta Il prossimo Verdi E nel frattempo Vi lascio con due video Meravigliosi Bellissimi Uno dedicato Alla solitudine Sempre un video Del Verdi E il secondo Dedicato al Meraviglioso Mondo dei voti Ma i voti Servono veramente Ma i voti Servono a qualcosa Ma quando uno è Voti 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 Servono sì o no Secondo video Ciao Ci vediamo la prossima volta Ciao bello Ciao bella Ciao capoccio